Rendi conto di gestione 2019 dell'ente comunale, questo l'unico argomento all'ordine del giorno dell'ultimo consiglio comunale di Agropoli che ha visto una profondita discussione tra il consigliere di minoranza Agostino Abate e l'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi. Il rendiconto di gestione 2019 dell'ente è catastrofico, ha dichiarato Agostino Abate, che conferma quello che già era agli atti nel 2018. Purtroppo, devo dire purtroppo perché effettivamente mi sento di dire così, non è andato bene il rendiconto 2019, anzi direi che è alquanto praticamente catastrofico per questa città il bilancio 2019 che oltretutto conferma già un po' quello che nel 2018 erano agli atti del Comune. Quindi voler parlare in questo momento del rendiconto 2019 significa prendere atto purtroppo e dico ancora una volta purtroppo che la città è in deficitarietà strutturale, cioè il collegio dei revisori ha segnalato questa deficitarietà strutturale e qui nacque un po' il diverbio su quello che era la conduzione del consiglio comunale, perché io sostenevo che in delibera doveva essere dato atto ai consiglieri comunali di questa deficitarietà strutturale. Invece l'assessore evidentemente e il sindaco ritenevano che se ne doveva dare conto poi nel rendiconto prossimo. Quale assessore? L'assessore muta i passi, l'assessore alle finali. Io invece ritengo di no, anche perché la norma è chiara, è evidente, gliel'ho citata e chi vedrà la registrazione del Consiglio Comunale grazie proprio a Cilento Channel si renderà conto. Vi ricordate che da 8 anni circa gira una prima storiella che dice Agropoli è come una Ferrari, però è guidata male, quindi di conseguenza noi riduciamo le spese inutili, eliminiamo quelle ancora più inutili, cerchiamo quindi di fare pulizia nel bilancio e con i residui che ci rimangono noi investiamo in modo che Agropoli possa progredire, perché Agropoli è stata condotta male negli anni passati. A questa storiella poi mano a mano se ne è affiancata un'altra, cioè quella di dire sì, è vero, dobbiamo dare il conto che tutti quanti i cittadini pagano, ma in questo momento c'è un momento di sofferenza e quindi noi non vogliamo vessare i cittadini e non esigiamo tutto quanto avremmo dovuto esigere. Con queste due storielle io posso pure concordare, ma nel momento in cui queste due storielle venissero condotte con capacità e con terzietà, con capacità che significa? Significa quello di dire sì, è vero, io riduco le spese inutili, elimino quelle del tutto inutili, però dopo investo, ma investo in proporzione a quelle che sono le entrate effettive che questa comunità mi può dare o in quelle che sono le entrate teoriche, cioè di calcolo soltanto? Un'amministrazione capace avrebbe detto fammi andare con i piedi di piombo, fammi investire in proporzione praticamente a quelle entrate che questa comunità, questo stato sociale ed economico di Agropoli mi riesce a dare e in più io ho la capacità di avere una macchina amministrativa capace di scovare i furbi, gli ingalliti, coloro che non vogliono pagare, coloro che sono sempre renitenti a ogni richiesta di diritto da parte del Comune, ogni richiesta di diritto tributare da parte del Comune, se non ho nemmeno una macchina del genere fammi andare ancora più cauto, invece loro no, negli anni hanno pensato praticamente che per loro tutto potesse essere possibile, tant'è che siamo arrivati al 2019 che sancisce purtroppo che la struttura economica e finanziaria del Comune è in strato di deficitarietà strutturale, quindi questa è la critica che io formula a questa amministrazione, critica che oltretutto avevo già formulato non soltanto nel 2019 ma anche negli anni precedenti, mi veniva sempre rassicurato, praticamente no, sei tu che evidentemente la vedi in questo modo ma noi stiamo in linea con quelli che sono i risultati sperati e promessi alla città, assolutamente no.